Madonna mia, però che bello. Bisogna di giro a Sarchino quindi, di controllare. Sì, chiaramente. Io vado a scelare già, in partenza, che siamo su Paladins, hashtag. No, 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 Sara, non sei la prima. È arrivata prima persona bella. E secondo Pro Pro Gamer, perché una volta non gli basta. Due, due, è super Pro 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 Gamer. Monitor. Quest'audio. perfetto. Smash the like button. Ciao a tutti, anche da me. Hola a todos. Un hello and hello to everyone. Come sempre vado a invitare la mia compagna di gioco. E andiamo. Yes. Sì, persona bella, noi è più o meno un mese che giochiamo già, cioè un po'. Dica Duca! Ciao Duca! Non ci credo. Sara, ti odio. Ti odio! No, ho preso quello. Allora, Damage. Fammi vedere chi posso prendere di Damage. 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 O vado con... Victor. Andiamo con Victor. Salvar me. Sì, 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 sì. Basti che people lo sto scaricando da watte, perché io non lo... a diferenza di Doc, non l'ho compratto un mese fa. Bene, me l'ho proprio compratto però sì. Blue Shape! Me too. Cool! Benvenuti Ciao Angel Catalan Ciao ragazzi, gratis Gratino Yeah, Blue Ship, but I want you in Fortnite You're a good player, man Chicos, acordaros de dejar el like Please Frank sta giocando Le Leonora Ciao Ele Le Leonora Siamo come il culo di una Bertuccia, un po' infiammati Cosa? Ava nananana Allora Doc Ok Minchia, ancora non sono riuscito a... Uh, la mappa nuova! Vai Saretta, vai Saretta Io ancora non sono riuscito ad usarlo Quello nuovo Vai Saretta, vai! Ciao Vincenzo Ciao ragazzi, ciao a tutti Benvenuta Stai fermo un attimo? Wow, bello A te non si è caricata la Switch Ma come? Due giorni senza Switch e adesso è scarica Ratti Ma Ratti ma sei detto che l'avevi messa a caricare E non puoi giocare, Ratti collegata a uno schermo Mi sta che non è proprio così bella persona perché per poter giocare in team vuol dire che tu scegli con chi giocare e devi arrivare prima al livello 4 E poi ragazzi io do la priorità a chi ha comprato il gioco per giocare con me Scusate se così lo dico, perciò Sara e Ratti sono quelli che se ci sono giocheranno un pochettino più degli altri Scusate E Piera anche Perché per la fine Piera se l'è comprato a tutti già i personaggi Quindi io premio chi si fida Yuri, ciao Ciao Iurino Fratellino mio, come stai? Sì Eleonora, ce l'ha già detto Saretta Sì Eleonora, ce l'ha già detto Saretta Che filo? Il filo è rotto Che eserro Ahi 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 Bravo Piera, hai tutti i personaggi, puoi scegliere l'arma che ti piace di più Sì L'abilità, questo secondo me È la cosa importante di questo gioco Deb Hi Deb Prima, perché? Perché? Ma cosa succede? Non cosi come ci sono? Perché non ci manchi, per quello ci ha raccontato da te Oh, il chianno del figlio ciao benvenuti ragazzi è Lil come sei Lil? come sei io anche Lil beh dovresti educare il tuo figlio Zep non è una cosa bella ok Vittorino si tutto il mondo sta giugando Paladins ora ragazzi non ha fatto una domanda avete Paladins o qualcosa così perché è gratis è certo che tutto il mondo lo tiene ehm ti è salutato Pingui ma la Switch la puoi caricare anche con un caricatore c'è non deve essere la Switch l'ho già detto mille volte Serrati dai se non ce l'ha costa 2 euro e 50 un cavo per caricare PC Sì Zep, abbiamo giocato Paladins e abbiamo davvero piaciuto No Zep, oggi è stato gratis per giocare questo è perché questo è quello che potremmo vedete molte persone giocando Paladins su Switch questo è perché è gratis ma dog comprova e la buona cosa è che può giocare con tutti i caratteri che ci sono e la versione gratis per giocare ci sono i caratteri sono rilassati credo ogni settimana o ogni mese non ricordo bene ciao bello ciao 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 ho troppo non l'eco perché vabbè gioco un minuto ok sì una non ho le cuffie perciò quando gioco si si ho capito tieniti qualche soldo per le cuffie Frank per favore le cuffiette non posso dire 65 euro no delle cuffiette dai non devono essere le cuffie di 60 o 100 euro cuffiette quelle che puoi mettere uno e l'altro no come si chiama la cuffiette sì vittorino lo vedo normale hace más calor che in espagna sì ratti sono incazzato con te perché mi hai detto che caricavi da switch e giocavi questa 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 live e in verità mi devi far giocare con la gente che appalla di in sé solo perché è gratis capito è buono per quello sono incazzato con te giocare con un casual gamer mi urta quindi si può giocare con gli amici solamente a livello 4 dell'account no si può giocare no si può giocare non con gli amici con gli amici si può giocare sempre ah oh cazzo vabbè faccio una partita e poi vedo ok wow Zeb I think yes I think no I don't know possiamo fare la lobby privata volendo qua ah che bello per il indipasi Mercato però in Alemania non ho senti per il medio ambiente non potremmo che sia sano che sia Così che sei come l'inverno. Tiene tutto una raffa molto illogica. Io ho mai vivuto la mia vita con l'aria condizionata. Per me è una cosa che un fermo, è la mia opinione. Ti chiede l'aria buona, ti basa le difensi. Io anche se retta, soprattutto quando giochi con gente che non ha seconda. Sì, sì, persona bella. Poi ne riparliamo quando gente con personaggi forti ti ammazza subito e tu shoppi o lasci il gioco. Il fatto è che sono troppo diversi l'uno dall'altro. Non è una skin, non si sta parlando di skin. Qua si parla di abilità, personaggi e armi. Quindi può essere che lasci i cortelli e dici ma che stai facendo? O che ti esce un cechino e non lo saprai e non so aiutare mai un cechino per dire, no? E ti senti perso. No, ma scusa, un personaggio alla settimana, se esce un personaggio alla settimana, se ti fai un calcolo di quanti personaggi ci sono, hai bisogno di un anno per avere tutti i personaggi. Però adesso che hanno aggiunto un personaggio in più hai bisogno di un anno e una settimana. Io ce l'avevo gratis, non ho speso i soldi però perché non è che gioco tanto come dopo. Quindi fra poi potrò fare il parangone reale. Ma esiste in copia digitale? No, no. We have the game card there, two times, twice. I wasn't even aware that it's what existed in digital. No, no. San Zion, adesso facciamo alla lobby privata, l'assarietà. Oooh, puoi comprare il terzo video, se ti piace, puoi comprare i personaggi. No, 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 no. Yeah, we had that, but have you tried to have into it in another game? Best damage, doc, best flank, Sara, uhahahah! Allah. Pero, la persona bella, esto no es shopcar, esto es comprarse el gioco o optar por el versione gratuita che non ha niente avrai questa cosa che è già in partenza e il gioco ce l'avrai quando sarà quasi obsoleto perché sarà vecchio dovete cambiare la perspettiva secondo me non è non è sciopare, in questo gioco si può sciopare a parte, se si vuole ma quello che ha fatto Doc è comprarsi il gioco e come in qualsiasi gioco che ti compri puoi scegliere tra i personaggi io la vedo così, non vedo come sciopare allora ragazzi creiamo di lui in spagnolo lei, gamer, family ci possiamo fare è una lobby privata vale? per le partite che già abbia superato il livello 4 no già, non dire cazzato no? direi che stiamo facendo una privata e basta no vale, perciò sta perciò per entrare devono mettere la password che è lgf1 e basta ok quindi la contrasezza per questo lobby è lgf1 hey Aaron welcome non ti muovere dalla mia parte che ti mi incazzo grazie Frank ce l'ha piccolo grazie grazie salve ciao Eleonora e ste ore e cinquanta ti potevi comprare il cavo si eh chicos dai venite in privata ragazzi grazie ma vediamo abbiamo ancora iniziato il stream Zepp quindi non non lo conosciamo non lo conosciamo non lo conosciamo quanto lungo stavamo quanto stavamo 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 con il flow quindi se entrivi in youtube potremmo troviamo ancora iniziato perché abbiamo ancora iniziato guardate guardate sì piccolo e piccolo guardate chico se non ti viene dai dai muovi diratti più veloce per favore duca non lo so tu lo sai che chiede a me mi sa che chiede per si l'emba più lento no la scarica non può scaricarla mentre gioca ah luca non ti dobbino giocare ai giochi online perché se no il download non ti va eh non parte neanche yes blue sheep you can join the lobby of doc if you want the password is lgf1 frank ti ho interrotto oh yuri io me li guardo sempre tutti dall'inizio alla fine dei video e dovresti vedere sempre il like dalla spagna e quello sono io forse anche due molte volte io ho appena finito la partita buongiorno ciao francesco sì chicos potete entrare ugualmente eh non è che sì perché è privata ora è una privata Sarchino Sarchino hai smirato che tale stas perdona se te lo pregunto veloz hai smirato gli early access il twitter si te ne ho scritto perché a me mi hanno scritto hai risposto no non so chi mi dare no quello da switch devi entrare in custom game e vedere che ci sono io hola ferky custom game che ti pareti paladins allora Sarchino ora puoi dire in twitter e comprobar che ti hanno enviato un mensaggio lo di Blackreadle studio e il mensaggio e il mensaggio dice che di darle e di inviare a ellos tu e-mail per inviarti il codico dell'early access steam di Paladin di Crazy Justice Calamago Calamago ciao 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 ho scelato ho scelato questo mi fa capire dove si sta con Tom Gaines non lo vedo qualcuno le può esplicare a Ferky come se uno è una privata a ver tu sai come si può giù dove si trova le non so mira un poco per la pantalla Ferky che lo encuentra sto sicuro eh chicos è in play play tenete che andare alla direzione setting ah ecco no no lo sto fendo oh si Victorin hi Liam mine too hello facciamo uno contro uno Sara non si può adesso è un pezzo si Calamago gratis and blue ship you are playing versus the the bot right now non si è scaricato non ci ho messo neanche 20 minuti che tienda no Victorin e il che di che sta hablando Victorin no Victorin no has entendido nada Sark ganò en un sorteo entonces él ganò un early access para el juego no todo el mundo hello chemo hello Reflect welcome bye guys si Mago è gratis adesso tutti stanno giocandolo quando vedi 90 persone giocando a un gioco è gratis e poi mi chiedono come fai a dire che tu sei gamer e io no no è semplice la domanda la risposta comprando i giochi si è gamer ragazzi quando c'è la privata credo che per andare in una privata si va in play custom e qui si incontrano e si join sì cosa si è come se 1-1 una partita vale play custom e potete elegirla la region antes e todo perché se no non si elegge la region non si è assenata privata e fanta perché se no nessuno può giocare perché perché privata no ho giocato frink ti hanno fatto una domanda in chance io vedo ancora quella vecchia se quella la vecchia non si è di apriela no ratti si li si deve fare l'aggiornamento thank you kemo that's nice wow from egypt hello welcome welcome we always try to mix the languages so everyone can't understand it so you're welcome just bright and low when you when you visit us i vidi scoppiato live gamer family 1 lgf 1 so guys please enter in our room boom boom all right oh mar anche io ti saluto in europa ferchi mi sa che blu blue ship you are versus the boat man yeah you have to you have to select the you the european geographical region search dog and then write the password which is lgf1 ciao bello si è gratis paladin ascolta 007 dovresti verificare il tuo account su come si dice su discord perché sennò non vai avanti mamma mia ratti dovresti pensare nelle stream prima degli stream alle alle due ma all'una va detto che metteva a caricare la switch so guys please join remember to put the region europe europe choose igo di doc and lgf1 oma sta cambiando di un lato all'altro qui non hai lista di momento sa che qui si entra chiun puede di momento tampocco sta molto afforato pingu perché non viene a jugar io non lo so no lo so chicos uniros porfa a quien este jugando paladins venga va bella cavatappi eso es así gracias por las instrucciones ciao cavatappi mira come te l'ha scritto vittorin sarc oh mio dio un pipistrello in casa eventually pingu se non non want to no v马as arrelano una sala all' underneath si con Ray tak но in headquarters si con Ray like solo in inglese yeah we need four more people y grazie a Victorino quién e che ho ho con hai grazie a Victorino por el instrucciones no? instrucciones 3 muy bien Zark è vero normal ha ganato un concurso un giveaway mi sa che Matteo non sa come si fa verificare chi è che è uscito adesso? oh no lo ganò Fergie lo ganò in un già risposto siamo riusciti a perdere un altro sub blue ship did you choose european region? sicuramente capa tappi guardate il chat perché i ucchi mandano le instrucciones come fare gli ucchi non sono solo per piangere si veramente persona bella stanno giocando tutti a paladin se non c'è nessuno che riesce a entrare secondo me nessuno ha capito che ci sono le private ancora perché non è che gli entri si va bene ma se mandiamo questo messaggio 15 volte di nuovo almeno se non passa nada no non fa niente 007 l'importante è che entriamo cioè che ci mancano tre persone per giocare se no esco rifaccio la stanza e la metto a quattro dai vaffanculo se no non ha senso troppo tempo sì cosa vabbiamo a ponerla a quattro persone perché farà llegare a sera tardiamo demasiado 6 non ti vuoi fare sì non riusciamo a arrivare a 4 frank dai ma perché? anzi 3 contro 3 eravamo 7 prima sì adesso tutti quelli che c'erano si si riuniscono ci sarà uno che forse non gioca però va bene amen ho passato mezz'ora aspettando dai mi sembra una ridicolezza senza senso sai adesso è qui se vi cambiare a 3 anche 3 è più lungo per fill a room of 8 so guys join again the same procedure as before dai ragazzi andate dall'altra parte secondo me si sarà a fare la parte e tutta l'altra perché si è squilibrata così ragazzi 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 non ci siamo state fermi tutti non mi frego un cazzo si può però tardiamo molto per llenarla abbiamo estado 10 minuti esperando la verdad che si se vuole un stream aburrido si tenemos che aspettare 10 minuti anche rattili amen amen ragazzi casual game casual game scorrettenza così imparate prima ragazzi avete da recuperare un mese di sto gioco non ti preoccupare Frank tu sei già pro no per adesso no fanta cioè sto come si dice organizzando la live la prossima si la prossima vamo a ponerle maschigos guys the next match we make four against four again so be ready for the next all five versus five vero quanto siamo depending on how much we are we can choose seretta sei pronta a fare la mangia noob cosa vuol dire 91% sopra carico yuri non lo so cosa vuol dire lo sai dove sei Sara non ti vedo 3 2 1 però io se posso occupare in crossplay anche o no 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 credo che non lo metta in crossplay di scala non lo messo gratis cioè spero perché se no giochiamo con gente che è di due anni che gioca questo gioco io sono un capo età più laureato invece ah logicamente è vero adesso loro non si vengono una mappa arrivano da altre parti dai duca che a po' fra po' l'hai scaricato madre mia due volte ci hanno ucciso frank non viene detto mai che i cactus non volano ragazzi il problema è quello che i nuovi non sanno la mappa ragion per cui possono arrivare da tutte le parti bella fanta moddio ma è un cavatappi veramente io non voglio giocarlo a me continuo ripetendo l'ho visto mi encanta che stenderebbe che ha detto quello è un po' super utile e forse Yuri hai giocato un gioco non so che gioco hai giocato è una cava copyright no ma si sta sorprendendo perché l'ho visto molte persone forse hai scelto un gioco che per la gente sembra più interessante questo è quello che hai visto ieri notte io questo non l'ho visto cosa il video di Yuri ah e qual è il personaggio perché 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 cada uno è una differente certo ah che non è che cada persona è una differente no c'è un pacchino iniziale di un tot ah vale vale ah sì sei o una cosa così non mi ricordo bene ah beh beh hai giocato Roblox hai interessato Roblox ovviamente sì sì ciao Matteo grazie grazie e beh giocano molto dimmi carinita ecco e ricordate da oggi è gratuito grazie 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 no non sarà di nuovo pagamento a pagamento è il gioco per sé con tutti i personaggi così tu puoi scegliere arma abilità eccetera e niente quello che è uscito adesso è il gioco con un paio di personaggi iniziali e ogni settimana usciranno uscirà un personaggio ma che io sappia non sarà più di chi vuol pagare può ancora prendere tutti i personaggi subito e il season pack non sono skin duca per favore non sono skin che skin duca non chiamarlo skin ah minchia non è estetica sono abilità ogni personaggio ha un'arma diversa totalmente e delle abilità specifiche che si possono avere a basso a destra che si attivano e poi si ricaricano blue shape i think you're still playing against robots this is in the first matches you do until you don't arrive to the fourth level i don't know are you in the fourth level already no Matteo non è una demo è il gioco senza i personaggi ma perché quella persona so guys if you want to play in the next match be ready now ma abbiamo perso incredibile mamma mia Zitti mangia noob mangia noob non giocare da un uro questo giorno ok Fanta buon appetito cool blue shape really today it's free it went free to play today Sara perché logicamente non è come giocare quando giochiamo normalmente qui nessuno conosce la mappa perciò può essere che uno da una parte uno dall'altra uno dall'altra è un po' più aperto è un po' più difficile giocare così con tutto con tutto con tutto exactly we played more lessons one month 26 kg ha fatto Frank minchia good job oddio perché è uscito di brutto così ogni volta esce no eh per favore sei in North America adesso ma guarda allora the password it's always the same for now live gamer family one eh infatti ti disse un po' mi ha perso una bella che io ti ho visto a giocare ha spiato con le mani nei miei tembri e le conoscrittissimo so guys remember put europe in the region and the password is lgf1 ah cool really you were playing it on pc before whoever wants to join feel free duca duca i suoi insulti creativi le cagula ambulante ma credimi duca siamo sempre lì non me ne frega niente tanto da ugual è la stessa cosa no dai duca sette minuti è quello che ci mettiamo a fare una partita quindi per la prossima dovresti esserci ma una domanda adesso hai fatto 5x5 sì perché non si può scegliere quando sei in lobby questa è la cosa che è un po' cosa vuol dire la cosa bella sarebbe che sceglieresti cosa vuoi giocare 5x5 quando sei qui e sai quanti si stanno già non sono un programmatore di giochi grazie perché gioco proprio lo spica splat 1 perciò ho giocato da giocare con i giochi felice ping boom molto felice scusa prego si anche a me è troppo bassa la sensibilità ma mi sa che me l'hanno l'hanno risettata perché blu shapes in nice ciao bentornata leonora per chi entraste però ai ai sta per chi non penso che c'era perché fantasy è andato non penso che facciamo 5x5 e l'anni guarda l'anni guarda E avete già lo downloadato sull'istituzione? Ah, vero! In quella cosa c'è due! Che bello! Ok, forse ce la favava anche Duka, si continuava così! Sì, mancano tre! Sì, non ce la facciamo volmente, eh! Ma è che se hai passato di 3 contra 3 a 5 contra 5 Non ce la faccio di 4 contra 4 Che palle, oh! Eh... Due minuti! Saretta, ridi, ridi, ridili in faccia! Di lì a tutti che facciamo un 4 contra 4 perché sennò non arriviamoci! Sì, ragazzi, Blue Ship, per voi... Sì, ragazzi, sì, 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 sì! Sì, 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 sì! Facciamo 4 contra 4, pensiamo che sarebbero 5 contra 5, quindi... Sì, inserciate lepo di 4 contra 4 che per voi... ... Sì, è che Fanta si fu, si fu a cenare. Sì, Duga, ti aspettiamo, mi sa, perché tanto siamo otto. Stai, un minuto, mi sembra che è andata più veloce alla fine. Come si usano i cavalli su paradigms? Non si usano. C'è un'altra cosa. Vanno da solo lì, no? Chiaro. Ok, manchi tu, Duga. No, 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 siamo riusciti a fare una partita. We're waiting for Duga. Non c'è bisogno di emozionarsi così tanto e pensare che a colpo dieci persone entrano a giocare. Siamo a Giulia, non sa neanche come si arriva a giocare in private. Entra, Duga, entra. Entra, play. Poi a destra, custom, guarda se sei in Europa. Clicca su IgoTDoc e lì hai le istruzioni e la password è quella, LGF1. Esattamente come ho spiegato adesso, Francesco. No, certo, credo che non c'è ancora una platform crash, quindi non provi. E tu può crashare? Che strano. Sì. No, ma secondo me... Per quella che non ha un risco di scaricare quello. Secondo me, il fatto è che molta gente neanche sa che esistono le private. Perché ho già visto troppe persone chiedendo come si entra. E non è dal tutto intuitivo, diciamo, perché andare a custom... Vabbè, schiaccia... Tutti cantano una canzone. Scacere, Duca, il coso... Certo, Francesco. Sei una persona positiva, Blue Ship, è buono, è buono. Ma ci sono anche grandi e brutti, ricordatevi. Perché prima salita non conoscevamo nessuno che giocava a paladins. Ce l'abbiamo fatta! Yeah, we did it! Eh, ragazzi, ricordatevi che abbiamo bisogno di completare il team, eh? Non abbiamo un front line e un support. Quindi, ragazzi, per favore, pensate di usare altri membri, eh? Altri caratteri? Sì. Ehm... Do you know Bombkin? The game? For PC? No, really, sorry. Non dobbiamo, non dobbiamo su PC... Ehm... We... 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 We haven't got such a good PC, so... We're not... We usually don't play games on PC, unfortunately. Eh, ma guarda, Saretta, scusami che te lo dica, ma... Stiamo parlando di un gioco. Cioè, già a quelli livelli mi sembra un po' exagerato, scusa che te lo dica così. Sì. Esageratissimo, no? Eh, vai tranquilla, Saretta, adesso la puoi ammazzare se lavo di tanto. Cosa ti devo dire, cioè... Non mi sembra il cago. Mamma mia. Let's do this! Il cecchino, Fra? Chiaramente. Senza nessun dubbio. So... I don't... I don't think they will cheat, really. I don't even know which type of cheating there is in Paladins, but... I hope not. Fai sto scudo! Fai lo scudo! No, eh! No, adesso... Adesso non sparano nessuno! Sparate però, ragazzi, sparate! Anche lui piace abbastanza. Il Victor. Bentornato, Fanta. Siamo riusciti a iniziare questa partita nella tua assenza, sai? È la stessa, sai? È la stessa, sai? È... Nooo! Fai! Fai lo scudo! Ok, Rayleigh. I understand. Well, I think these techniques are super boring. And when I meet someone who does it, I kind of feel pity for that person, because I think that they might have a really boring playing experience. I don't know if they really enjoy doing that, but they will have their reasons. Nooo! Nooo! Si, 7 minuti ancora. Sì ma Fanta ancora 7 minuti Non so se lo vedi Adesso che non ha creato Perché secondo me Ogni volta che finisci una partita Devi creare una nuova privata Ho capito bene? Non lo so, mi auguro di nuovo Speriamo di nuovo Fanta Penso che sia normale che non lo trovi adesso Bella Stai usando un tank Anche quello che fa il fuoco No, non ci arrivi Forse col salto I tank sono i personaggi con tanta vita Che fanno tanto danno Ah Quella devo imparare Sì non sapeva questa terminologia Come dire Carlo Armato Ah Tank Make sense Beccato che non c'è nessuno Mi sta dietro Nel senso quando faccio lo scudo Questo è quello che Come si chiama questo personaggio? Che si chiama Fernando Sì Fernando sì Si chiama Però Minchia Omar Il lag qua aiuta tanto Aiuta proprio tanto Omar è riuscito a morire dopo Ma una domanda Si possono comprare i personaggi unici? Ecco la risposta Francesco Può essere un po' di sì Non lo so Però adesso io non ho visto Lo sta opzione Sarebbe anche strano no? Perché come puoi sapere Se ti piace Se non li hai provati No ma fallo sto scudo E l'altro allo stesso tempo Cazzo schiaccio Ciao Iurino di nuovo Ah i soldi del gioco Non so cosa dirti Dipende molto da che tipo di arma ti piace E che sono tanto diversi queste armi Niente lo scudo Niente lo scudo Me lo carichi lo scudo Ma me lo carichi lo scudo Per favore Eh ci mette abbastanza A caricarlo Fanta non ho preso i DLC Io Io sono un fundador No ma non ho preso i Step Però continuo a comprensere il genere Ma di dire la verità No ma magari ci metti un po' meglio non so si chiama founder pack founder pack mamma mia che partita do you like it blue sheep? a duca le piace giudica te stesso duca senti che hai giocato bene a blue sheep? si per chi no va a curare tutto l'equipo ah tiene questo che fa così ah è vero io la prima volta che fui support non lo entendi però la verità è un role molto giusto a me mi gusta essere support hai messo Europa vero Fanta dovresti vederlo veramente cool blue sheep minchia ma guarda si dai eh perchè ogni volta esce quindi non lo so io credo che sia ancora un bug sai perchè non dovrebbe uscire si sarebbe molto illogico non lo so chiedi chi vuol giocare chiedi chi vuol giocare quindi per voi scrivete mi così sappiamo più o meno il numero di persone che vogliono giocare perfetto 1 2 3 4 5 6 7 10 mi sa che ci siamo adesso oh mio dio ragazzi una volta basta poi non è che vi guardo che nome avete conto io e basta ma guardiamo 1 2 3 metto 10 metto 10 7 7 contato io 9 e 10 grazie thank you ok blue sheep yeah you can enter blue sheep oh non puoi giocare non puoi giocare mentre scarichi sembra chiaro io provo di essere morti con quello allargare e vedrà le più pistole non so qual è blue sheep 5 conto 5 ce l'abbiamo fatta we did it guys that's good viene ciò 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 eh sono importanti le mostre speciali ragazzi usateli giustamente perché danno molta molta possibilità di vincere eh ragazzi già non c'è un supporto eh ebbè Anto devo limitare io a prendere il supporto sai cosa ti dico? senza supporto si vive bene ugualmente se tutti pensano a non giocare d'equipo prima noi abbiamo giocato senza fia e vabbè ma non fai i paradini completi ma il supporto che fa? il supporto ti cura chiaro solo che c'è ah no l'hanno preso a posto tutto a posto ben tornato a posto stavano giochendo di otequa allora e Andrati dai che forse ancora ci affacciamo a giocare insieme oggi mi sa di sì a posto mi sa che lo facciamo più tardi no Saleta non è che per forza deve esserci il supporto però io penso che cioè se hai una persona nel team che costantemente sta curando tutti minchia minchia my fluffy wool gives me luck Oggi ti spettavamo ieri a posto per giocare, oggi come è uscito Paladins gratuito? Però l'ho già detto che sicuramente voglio giocare un po' a Fortnite, tanto la gente che giochia un gioco e un altro, quelli di Splatoon si disiscrivono se giochia una cosa, quelli di E perciò penso a me adesso, sempre la solita minchiata da un po' uno dice minchiata per favore, se fai un gioco si disiscrivono quelli dell'altro gioco, se fai uno nell'altro sembra una... Ma state tranquilla se non avete più posto l'altro? C'è dopo l'altro. Chippi. Perluo. 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 perché non entrava lì perché non stava entrando entrando dietro è chiaro aveva una porta dietro lo siete facendo mandaglia solo c'è questa mappa o puoi scegliere sempre sì bisogna cambiare ogni volta la lobby che già per se lo fa no adesso sì sì che mi ricordo dell'altro è vero no non ce l'ho con te a posto in generale la gente entra no minacciando mi disiscrivo perché stai giocando a questo fai che cazzo vuoi lo dice fate no però mi sembra stronzata che la gente accetti solo un gioco e limitarsi sembra che tutti hanno un cervello piccolo e limitato e molte persone pensano come persona bella che la cosa che secondo me è giusta perché c'è se ti piace un canale di trovi bene quindi bene con tutto non vieni a lamentarti come ci fa alcune persone fanno sono meno molto egoista alcune maniere di pensare ad essere e poi la cosa che mi fa schifo è che ti minacciano tra virgolette con queste stronzate ignorando comunque il lavoro che uno fa perché penso che forse non vedono questo come una cosa che facciamo noi volontieri no per il dipendimento nostro è ma principalmente anche di loro quindi forse adesso dovrebbero pensare che perfetto per far star tutti nelle stanze spendo più soldi in internet già quello nessuno se ne dà conto no per avere la linea buona uno deve spendere di più vuoi fare un live stream dove tiene dieci persone dentro in questi giochi qui dove non ci sono connessioni proprie dove non c'è un live devi pagare di più sennò fai uno stream come lo fanno l'80 per cento delle persone che è uno stream di merda dove le persone laggano tutti dove non c'è una continuità nel server non c'è però va bene questo è una mentalità della vita pensare che tutto è gratis è gratis è dato a te ma grazie comunque a tutto di nascita è anche a paladins grazie a tutti i giochi che danno le cose gratis questo è quello che rovina il mondo far pensare che tutto è gratis però poi devono lavorare quando cresceranno lavoreranno a 10 ore al giorno capito e non è gratis la lingua da hombre hola che tal wow ready but you had to delete it you did did you put them into the internal memory or something or i mean not delete delete not forever but we know it's a happy game cosa mi hai capito ma è tutto cancellare tre giochi aspetto che le abbia messi c'è in memoria non so come si dice in inglese no ti ricapra cosa vuol dire iuri sono persone non belle ma stupi cervello limitato per quello detto quando hai il cranio piccolo no è come il doberman cranio piccolo cervello grosso diventano pazzi e quelle persone lì sono così fermi come non hai sempre persone di gran corazzo volontari come tu che si offrono per essere il support perché non si considerano che non mola perché non puoi matare cosa che non è vero a volte è falso il supporte fanta prima ha ammazzato tantissimo e stava usando il supporto si dice però questo è spizzato per non averlo perché Fanta è incapace a giocare sì perché hai gente più che non l'ho entendito siamo un po' più realisti anche a parlare no perché veramente la merda è marrone come la nutella ma non sono buone uguali ma io penso che c'è gente che oggi è da un paio di ore che sarà scaricato e forse non sanno neanche cosa è un supporto io comunque ho fatto 9 kg l'una dietro l'altra va bene ugualmente grande Sara mano persa io ancora non sono riuscita a usare wow bravo Matteo bravo hola Sark hola di nuovo come pensavai che giocavo prima quando ero giocando? è una domanda di opinione? o una affermazione? ho fatto più chiuso che il supporto vedi? sì infatti perciò non si devono perdere ha pure i personaggi bellissimi il supporto io non so perché la gente si diventa e dice ah supporto vuol dire che non uccido devo fare solo il supporto no wow Fanta bravo mamma mia yeah really sweet victory non ci credo ogni volta è da rifare lo sai? ogni volta è da rifare ogni volta è da rifare dico forse anche dopo dopo cena mh ogni volta è da rifare che palle bro adesso rifacciamo ragazzi ogni volta è da rifare Quindi entra chi entra, come sempre il password sarà LGF, no non la metto più, mi sono incongato, ah non devi per forza metterla? No, ah ok senza password, no password this time, si incontrasegna chicos, si perché se no in serio mi passo più tempo che, che uguale Sì, credo che hai elegito il password per il defecto Se quei giochi secondo me, così pensati bene, sono fatti per avere un team dove ognuno già sa il suo ruolo, lo accetta e lo esecuta Secondo me, per fare una bella team Un bella team, se no è sprecato A posto unisci da discord, vedrai che saprai più cose Perché non è che abbiamo una vita lavorativa, abbiamo tante cose Cosa mangiamo per esempio stasera? Come che se la Nord America puoi mettere? Norrati si può cambiare sotto Non è sicura 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 Cioè, riso È riso Cioè, la prima cosa che mi è venuta in mente, sennò poi ci pensiamo Eh, la mattina a posto stiamo lavorando da solito Matteo, guarda il link ti ha mandato Frank, lo metti e poi devi verificare il tuo numero di cellulare Per sicurezza Madonna, c'è la propria spagna Perché? Scusa, ha fatto questo? Meglio Sì, meglio, ma io non riesco di già leggere Hola, Isaia Hola Lo ricordi? È vero Sì, che tal? Benvenuto E vabbè, puoi usare il numero di telefono di tua mamma, di tuo papà Si, si possono usare i numeri che vuoi L'importante è che ti arrivi il codice di verifica e lo metti Ciao Kate Ciao Kate Ciao Kate Dai dai, forse ce la facciamo A giocare insieme Wow, non so cosa fa sto personaggio, è la prima volta che lo uso Non so cosa fa stoapato Allora E' quella di margolise Allora E' la prima volta che lo uso Ok, qual'è? Ok, allora E' la prima volta che lo uso Non so cosa da oh wow ma adesso facendo così senza codice si è unito gente diversa no senza la gente che sa che c'è un matchmaking e entrano ok questo gioco oggi è uscito gratuito cioè è diventato gratuito nella switch I don't know really we have never played Overwatch so it's similar quasi uguale si he thinks he likes paladins better than Overwatch we really cannot judge it but we trust your opinion I don't know I feel really impressed about this game I played it first with Doc's account a few times and now that it's free I download it and I'm I'm happy hace mucho calor si Isa claro es verano i due Mattei veramente vi state discutendo per chi il primo Matteo avendo un nome così normale come Matteo che nel Vangelo siete seri c'è un nome nel Vangelo e loro dicono il primo Matteo è Matteo del Vangelo sicuro c'è un'altra cosa se arriva una Jess e io mi dico eh io sono la prima Jess che è un nome che non esiste tanto perché non salta? è come se Franceschi iniziassero a dire che era il primo Francesco certo ok così via prossima ti unisci Doc fa paura con questi personaggi cool really it's happy it makes us happy to know that no verrà che non sta bene arrivare all'uncato no? ahi Vangelo lo sei lo sei ragazzi siamo tre sotto non passa nada Isa si queda poco questo domingo bella partita ragazzi bella bella ma guarda bella persona che non è che leggo tutto eh si ragazzi se dovete parlare con noi direttamente mettete chiocciolina il nostro nome perché sennò diventa impossibile a volte lo leggo per me per la mia testa e non non vedo bisogno di leggere rispondere a volte semplicemente non lo leggo perché non lo vedo Vittoria Vittoria se va chi se va vai un po' più giù Isa io no ah si adios no vamo adios Isa ok Sareta che dici Sareta deve spegnere la switch per rimanere in live e devo mangiare no 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 si sta andando qui Buon match, ragazzi, abbiamo fatto bene Sì, ci sono modalità dove vince la squadra che ha più kill Ci sono modalità dove no Ma le squadre vince se ha più kill, non so Non so, che squadra vince? Cioè, ci sono modalità death match dove vince più kill, logicamente, minchia duca Death match E questa come si vince? Ah, l'ho messo in Nord America, ma scusa, ma perché? Ma scusa, ma io non capisco, guarda qui, lì è in Nord America, ok? Guarda io qua cosa metto Guarda io cosa metto, eh? Non me ne so, scusa, scusa, scusa Sì, scusa, ragazzi, per no, c'è quello che mi spia Ti guarda che devi prendere l'analogico R Per cambiare la peccura, per cambiare la peccura, per me c'è lì, trovi la sella, scusa di tutto Io comunque lo mangio Buon appetito, Vre? Oh, Frank, ciao Allora, a dopo Allora, a dopo Allora, arriva, qui e l'air, mi ascolto, però non parlo Allora, buon appetito Ok, a dopo minchia come è rotto mannaggia la pupazza eh? no damage damage, no damage damage come è un flank mi figlio di avere il culo va bene, va bene, no flank va bene l'importante è che c'è uno che curi raga ah chiarate l'analogico è rotto e non può cambiare adesso l'ho letto c'è una cosa che ti funziona ratti si è portato lì di cattivo ma fa attenzione come fai? guarda Francesco così ciao Kate ciao manda un tuo come giocare ci sono andato ci sono andato ci sono andato doc ma puoi curarti anche da solo se non vieni colpito o spari per 5 secondi ah si? si si con il tuo fronte non vieni colpito ci sono andato ci sono andato non vieni colpito e ci sono andato qui mi sono andato sarai si ciao mi piace sì bella la domanda Anto hai fortnite ragazzi ma chi non ha i giochi gratis Anto non gli piace fortnite e non ce l'ha curiosamente sai te lo posso rispondere io che lo conosco da due giorni che è qua in live e se sarete un po' qua lo saprete anche madonna mia giochi a fortnite no 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 hai fortnite è vero hai l'aria hai aria iurino l'incorrigiamento no io guardo io ho sempre il solito problema quando giochi con nabbi tra virgolette con gente nuova è molto più difficile perché ripeto non conoscono la mappa perciò possono arrivare da tutti i lati quando inizieranno a giocare un po' in classificate e in cose così vedrai che il loro stile cambierà e tutto il gioco sarà differente nooo grande madre mia che botta mi ha dato ma perché quando metti in casa mi metti quella canzone e poi non mi esce nella testa tutta una live ti prego la prossima volta no perché piace al cocco ok saletta tranquilla ah sì cocco tu puoi mi dimostri che ti piace a buona nanana o quella niente eh niente eh grazie mille Grazie. E' che il cecchino senza senza mira non colpisce quasi mai. Ah quando si vede così del lato. Eh non mi confonde. Quando sei senza scopo. Ah ma qua la gente sta sentando come il fornaggio. Eh? Mi prego non sa tardi come il fornaio. No! Finisce quando finisce il tempo? No quando finisce 40 kg. Ah. Oh! Close to the end. Non ci credo. Non ci credo. Beh. Vergogna. Grande Fanta. Prossima partita. Ma eh. Minchia. Facciano in Nord America. Ma sanno cosa vuol dire metterlo in Nord America? Giù. Giocchiamo col ping della Nord America adesso noi sai? Rai. Giocchiamo. E Winston. Mi ha il prego non si trattino. Si. Ti e se. Se ha il prego non si trattino. Si non si trattino. Quindi i tuoi non si trattino. I tuoi. Qui non si trattino. Chiaro che no, non so ne chi sei E non è mia intenzione di giocare con la tua partita Facciamo Nord America o no? Ah, chiaro Chico, se in questa partita poniamo scomoregione Nord America Ragazzi, per questo match Poi mettiamo Nord America come region Ok? Ragazzi, mettete la Nord America come ragione Regione questa volta Password esta Chicos, mirate il chat, por favor Cioè, mirate lo stream Uno, due, anzi no, vabbè, facciamo Q, Z, E, R There is a code this time Ok? Q, Z, E, R Non sarete a quella non è, per favore, grazie Escrivono qui così, non rimane dubbio This is a code This is a code Good blue shape E' bello, ragazzi, mi piace tanto il gioco Guarda Francesco, per la prossima volta E' questo Dipenderà Dove c'è scritto Europe Dipenderà da cosa scegliamo per la prossima Ma in pratica è quella Mi è piaciuta, no? Con la password Mi devo comprare un pro part, scusami Eh sì, Rati, ti servirebbe sinceramente No, perché se no non puoi schiacciare il tasto Un tasto fondamentale Ma fondamentale Ma come si è rotto, cioè C'è ancora l'etichetta? Con la password inglese E' un'esplice, ma come si è rotto What? Ah Ah, ti ha fatto Q, Y, no? R Un c'è la vera non è una picatina Un c'è la vera non è una picatina Un c'è la che? La picatina No, dopo la faccio You're genius Ok, ready Si c'è sufficiente gente? Certo che si fanta Ovvio E poi sarebbe meglio iniziare a giocare Giocare ancora 50 minuti Buona attesa La vita di Doc Guardati come film Ma sicuramente ti si è staccato qualche connessione Non credo che si rompa un tasto Cioè Un stick ancora un tasto? Se è vero? Se si sarà scollegato Certo Se si sarà scollegato qualche Secondo me Umile Opinione Ma comunque tu converti il Pro Controller Non credo che così giochi molto meglio Vedrai Good luck No Good skill Sar Claro, claro Cari Tranquilla Esatto Così il cervello continua a funzionare Saretta Vero Io la prima C'ho ancora l'altro gusto Strano È buono Doc La macchina Per uccidere tutti Cattivoni Provo a usare Come dire Cosa è questo? Onda energetica Onda energetica Onda energetica Onda energetica Bello Onda energetica Poi bingo Inspira Espira No Really blue sheep No man Cos'è? Cos'è? È rimasto Congelato Diciamo Ciprizzato Sì 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 Piti Non saresti più vivo Matteo Si può anche morire da bere troppa acqua Lo sapete Non saresti più vivo 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 devi aprire l'aria lì già come l'agilità si tranquilla seretta penso che come si chiama coca non ti piace come personaggio preparati seretta che forse scopra che gli piace e non te lo fa usare mai più ah questo qui è facilissimo usare è bello quello che faccio fai vedere che non l'hai sentito seretta c'è la sensazione forse primaria che hai quando è no seretta è già giocato un po' buonanotte matteo è bello perché c'ha l'agilità ah you didn't so you're still in the game oh that's cool nice scusate per l'attività anche cavatappi è una fidanzata ok vai tra lo usiamo in molti a prestare sfortuna cavatappi ok ok Sara lo so lo so che è in click veloce ah vabbia adesso Yuri ha specificato per uccidere tutti usa sfera energetica e mosso ricco funziona al 99% si si dragon ball oh 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 Wow, tutto bellissimo quando lo fa Oh mio Dio, quello è il Fernando, il personaggio che stai usando ora è un attacco ravvicinato che leva 1500 per secondo Minchia La macchina per uccidere solo una persona tutta la vita prova la fase gamma di Naruto No, Naruto non mi piace Io sarete sicuro che ne vado a leggere, io sono una classica persona che si legge i giochi prima di giocarli Sono anche la persona che si legge le istruzioni prima di fare una cosa Anche se puoi sembrare noioso, molte volte ti salva il culo Specialmente se non hai l'intuizione tecnologica Addio Matteo Wow, è bellissimo questo personaggio, è bellissimo perché c'è l'abilità della velocità Grande Duca Bella Si vede che ti piace il gioco Sono contenta che mi piace a Duca E' stranissimo perché come è scritto male il nome quando è così in rosso si legge solo M-A-R Mar C'è un sapore... Quello qua Il caffè Oh, blu shape Don't... We want the happy blue shape, not the sad one Hola Carlos Hola Ches Valentino? Si, lo savia, ves? Mi aggordo, mi aggordo, che tal? 12 kg No, non invitare ragazzi Guarda Francesco, prima due persone ti abbiamo detto come unirti Custom So, play custom Stiamo in Nord America come regione E niente, unitevi La contrassegna Senza con Con Vi doppia X C V V Muy bien, Nintendo Labo, che guai Credo che non ci lo dijiste la ultima vez E' fatto Cosa C'è 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 Ragazzi, ricordatevi il like, perchè qualcuno sicuro non l'ha ancora lasciato Chicos, per favore, mirate bene, perchè io credo che il like alcuna persona non l'ha lasciato Tengo questa idea Ciao Bene Pespetta, sarriza E poi Dopo Ciao Bella Certo Ah, ti stanno dicendo no No, tre persone se lo sono divendicati Grandes Welcome Sarchino, in breve vamos a jugare a Crazy Justice Sì Frank, io ti dico Non stare a spendere soldi più di tanto qui Perché c'è Crazy Justice Quello sarà un bel 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 gioco Tranquillo Frank Come? Francesco E dopo mi sa che proviamo a fare il 5 contro il 5 Ma Ratti c'è ancora? Non lo so, non ha scritto Ratti? Sì Eh, potevamo fare il 5 contro il 5 Non lo so, Frank non prenderlo per buono Non lo so perché ricordati sempre che a voi ragazzini piace spendere più del valore del gioco effettivo Ragion per cui può essere che mettono le microtransazioni anche lì, sai? Hi Mr. Epic, benvenuti Sì, da molto tempo Puoi giocare Paladins Paying On Switch No, non mi piace Sì, abbiamo giochato il 1 mese E oggi Si è venuto gratis Questo è il motivo per cui ci sono tantissime persone Poi giocare Paladins Ma sì Sì, davvero piace questo game Sì, non lo so Ah, ok, Ratti nella squadra Pensavo che non era entrato Vale, chicos E la prossima Hacemos 5 contro 5 Asi che Cari Eh, ho tratto toccato Mira Per la prossima Stas Ragazzi Questo va specialmente per Francesco La prossima facciamo 5 contro 5 Quindi stai attento Che potrai entrare Sicuramente Eh, Valentino Descargate Descargate Questo quello Che è meglio Sì, Frank Hanno detto Voleva dire una cosa Che tipo Hanno detto tante cose, sai Solo per quella Te lo dice Guarda Fanta Che bello Ciao Yuri Ciao Yurino Grazie come sempre Grazie a tutti La password Non preoccupare Raley Siamo mettere una nuova password Per il prossimo Siamo giocando 5 contro 5 Quindi La gente dovrebbe essere potremmo A join Sì, è vero Sì, è bello Sì, è vero Sì, è vero Sì, è vero Per questo me lo compre io A me? Io la prima stessa Mi quedo come Joder No se Me dava come pereza E poi ho detto Ah, tío Mi ha encantato Però molto, molto, molto Oh, Francesco Oye, Frank E tu che spaziamo E tu che bravo Prima fuerti Prima di squadra Nooo Valentino Este juego Hoy Se ha vuelto gratis Podes descargartelo Ah, sul serio Frank Francesco Hoy te Sei veramente in North America Quindi È comunque bellissimo Perché in realtà È molto bello Che puoi scegliere Quante persone Si devono unire Perché non dipendi Cioè Se tu ti scegli Secondo la necessità E non dipendi Di una preimpostazione Porca tra Sono andato lì Proprio nel momento In cui Frank Ha fatto la speciale Sì Valentino Può essere Oye È il dia Che si è vuelto gratis Doc Per esempio Se lo compro Un mese Però ora Podes descargartelo Dovevamo metterlo nel titolo Che adesso è il frutto Perché la gente Lo sapeva da l'indizio Dove te la dice Questa è la Switch O devi scoprirlo tu Per te stesso Allora Valentiamo Io diria che sì Mirai tu Valentino No La verità Non nos acordamos Lo de quien tiene De amigo Dove cazzo lì era? Wow Sì, qual è? Sì, lo spiego. O meglio, dimmi l'arma. L'arma. Si, non lo riconosco mai. Vale, stai vedendo che stai giocando. Mira tu se mi tiene, no? Ah, vale, la dell'arco. Vale, vale. A chi le gustava? Ah, a Ratti, no? A Ratti. A Ratti le gusta un montone, questo personaggio, anche. Comunque mi raro. E' lui, poi, poteva elegire entre tutti i personaggi, sai? Si, immaginate. Che, che sì. Wow, io ho volto in giro per il Paladino. Un po' fa' su portino. Ah, però tu lo tienes? Un paradigmi, no? Incredibile che mi ha perso Ah, per questo? Mi ha quedato così Sark Grande Sark Buon lavoro Quale stai facendo te? È il solito Ratti Vinto Visto che bell'arma che c'è Sark Con la testa di Stavo usando Victor All'EcoLofDuty Ah, vero Cinque contro cinque Metti Aspetta Ah, ok, ok Ratti Cosa? No, quello che stavo usando Stavo usando te Stavo usando lui Ero dimontato un po' Vale, la contrasegna Uno, due, tre, quattro, cinque Vero? C'è cinque Ragazzi Uno, due, tre Quattro, cinque Ricordatevi siamo in Nord America Come ragione Sempre che ho ragione È ragione Ciao, Fede Non lo so Sarete, non lo so perché Ancora, dopo tanti anni Non ho ben capito Il vero senso di Rieccomi Rieccomi di nuovo qui Sì Ma è una cosa molto legata al proprio italiano Io direi Ben via via Ben via via Norte America, chicos Esatto Luca l'ho resumito Gioca tu, dai Io? Sì, devo cucinare Sennò chi cucina? Siamo la Filippina Che cucina Ok, blue ship Sì Sì Ah Vuoi scegliere? Oh mio Dio Voglio scegliere lei È la prima con cui ho giocato Lei è support? Non lo so Oh no Non lo so Ragazzi gioco io Non vi aspettate Niente altro mondo Sì, quello vuol dire Sono tornato Esatto Esatto Devo fare una cosa? Aspettare Ok Questa mi piace a me Questa è la che mi gusta mille Verdad Deve stare un po' più attenta Pingu gu 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 Sì, sì Quello che ha detto Fantasaretta Ich bin zurück Si dice No, ce l'hanno detto Cioè la data definitiva Non ce l'hanno Sempre È approssimativa No? Ma dovrebbe uscire Niente già È meglio che se ne chiude Anche se non lo fai per te È meglio che non lo fai No ragazzi Non esiste Non rubatemi i personaggi Perché È uguale che A uno gli può piacere Gli può piacere un altro Quindi sì Chi è più veloce È più veloce Chi è più lento Non si fotte Oh mio Dio Che devo fare? Buonissimo Ho schiacciato Qualsiasi cosa Ho schiacciato Questa è molto più buona Non è l'altro Cosa ho fatto? Maledetti Adesso ti capisco Questa maledetta tecla Che non c'entra niente Sì infatti adesso L'arrivo la scorsa Sì quella lì Non c'entra proprio niente Ti fa aprire il layout Sì stiamo scherzando Sì stiamo scherzando Sì stiamo scherzando Allora Allora Io ancora mi devo Questa mi piace tanto Non so perché Ok leggiamo Ci sono di nuovo Figo di Pablo È un problema È un problema Come non so dove devo schiacciare Per trovare una perché mi piace Scherzo tutte E le scarico tutte Ho questo problema Ho questo problema Allora la velocità è zeta L vero? Andare avanti veloci Sì è E la L che fa? E la L che fa? Ma una mano Infatti hai schiacciato L tu adesso sai? Sì voleva L adesso Solo per vedere cosa fa Dove? 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 Meno male che ho detto Che era pratico Quello che avevano Eh Tiene che irri mira Spera eh Valentino Ups mi sono avvicinata troppo Eh ma Jesse è Sua seconda Vesca Quella Perché sempre ho Vigato io in Paladin A stai ora E ricorre anche Non muoverti Ma anche quello Quadra kill Quadra kill per Jess Tranquilli Dovevi solo dirmi Non muoverti Bastava quello Aveva già capito Cosa doveva fare Oddio oddio Cosa è questa cosa? Che ho fatto? Blu sheep Type was criminal Wow quello ha il Koga Quello di Saletta Dalli 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 Ancora E' bello E' bello questo gioco Comunque mi piace Chiaro che è bello Span E che era Span 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 io questa non l'ho quasi usata dai tipo io no tutti insieme vai tutti insieme ragazzi che rolerci o lo spam ar spam spam avanti l'ho già inserato Duca minuto di spam vai spam 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 e da bene sta il nananana ma nevi come si dice il hashtag oh dios no siate ha hecho el et no va ar oh dios mio osea asia 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 salve nono salve nono salve nono nananana desahogados con el ar fogadmi con questo con si rimane tutti tranquilli io voglio fare spamm 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 no r è uno di nostre tantos memes arr no 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 questo è una tecnica di... di goce e che era sempre che era il spam c'è anche il cocco ragazzi vai fai partire Jeff ahah start game start your engine game starting uh lì siamo, sembra molto oscuro chi è? io non l'ho visto più non so se prende la stessa almeno capisco già cosa fa si vai prende la stessa io voglio far posto con questo ma non so se mi aveva detto quella persino non volevi preoccuparti venga io Cari, Francesco, Adam, Fanta contra Enemigos non mi ricordo bene che Adam non ho pensato non ti ho messo la qualsiasi no ah mi sembra che sei la Jeff che ha giocato fortnite fortnite stiamo stiamo let's do this cocino no 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 si 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 che bellino vuole le coccole c'è uno che si chiama prosciutto e nanananana nananana 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 Se l'ho pensato io Saretta, ogni tanto si si fa, certo si fa, si continua un po'. Cosa? Si fa tutto? No, dici ora che c'è il paradiso gratis basta Fortnite. Si no, io che poco vorrei fare nella Fortnite, mi piacerebbe però non c'è il tempo. Perché sempre diciamo, pensiamo sempre che c'è tempo e poi... Un giro, no? Che fai? Poi c'entra la sonnolenza totale. Sì, 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 sì. Andiamo su. L'altro tipo c'è Duca, Falkenham, Ratti e Fra. Qua che scelgo? La seconda. Questa? Si. E qua? E chi? Ah, già. Oh mio Dio, dove siamo? Che pazzesco! Wow! Mamma mia, ma... Ma, ma, ma... Ah, lì hai giocato a quel gioco, ti ricordi? Wow! Ma questo qua è nuovo, eh? Ma pazzesco! Pisss, po' ora! Dove arriva. Ma io ti toto dove arriva, no? Ma io ti toto dove arriva, no? Io voglio se. Pam, pam, pap, pam, 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 pam... Dove sono tutti? Donde stanno tutti? E se vuoi qui che passano? Un po' più alto devo puntare Non è riuscato? No Per fortuna Vai Jay C'è anche le perche? Sì, guarda Una mi rimaneva solo Non lo so schiacciate tutte insieme Tenta di capire una palla Una volta che l'ho fatto Solo che non so dove le trovo ancora Però sì, cerco di RL Sì, quello lo so Non so quale l'è So che una è per andare molto avanti Molto veloce Un'altra è per Una per essere una specie di invisibilità Avere invisibilità Che dici, ce lo metto tutto o no? Fai un po' di più Come dire me lo mangio domani Ma dove siete? Sono tutte queste persone Raga mi sono persa Quindi io devo farci tutto Sì Anche voi siete persi Perché non li trovo Perché non li trovo Io seguo Fanta È così grosso Enorme Maledetta Maledetta Si può togliere però Visto che si può personalizzare Ma che modalità è? Te lo giuro non ho La più minima idea Anche io salterò ogni volta Ma non Fai proprio un secondo Sì certo Ah sì Due ore 22 di live Mamma mia Guardi Sfattualmente già c'eravamo caccati Il cazzo già A un'ora e mezza Capito? Perché stiamo giocando Il strato è sempre 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 Lo stesso Sfattualmente 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 E' un'ora Grazie. Pensi solo a chi è l'area. E quando è? Ese Valentino? Che? Non so bene, 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 non so bene. Non so bene, non so bene. Non so bene, non so bene. Chiaro. Intanto no, non mi piace. Ma parli con Doc, Frank? Non ti piace questa arma? No. Perché io solo ho provato questa e un'altra. Quindi ho usato questa per... Frank, siamo ripetitivi. Quindi penso che Splatoon mi ha cagato le palle per intero perché è sempre il solito gioco da tre anni a questa parte. Quindi è per me Splatoon attualmente come giocare a Super Mario Bros. 1. Capito? Perché non hanno cambiato niente, non hanno aggiunto niente. la gente si limita a fare quello e basta. Finito lì Splatoon per me. Dopo che giochi a quelle quattro modalità per tre anni quasi, tu dici basta, hanno le palle piene. Ok, hanno cambiato la forma al bazookarp. Wow. E quindi? Cos'è cambiato il gioco? No. Sempre quello devi fare anche prima. Prendere il bazookarp e portarlo da un punto all'altro. Quattro personaggi contro quattro. Non hanno aggiunto un personaggio in più. No, la mia... No, è vero. Non è tanto... Cosa? Perché questa non è precisa, non sai dove stai lanciando le cose. Lì. Sì, lo sai, sì. Eh, ma ripeto, Frank, il problema principale è che avendo avuto una Wii U che era una console meglio, meglio, sai, io ho tutti i titoli, avrò 40 giochi della Wii U e te ne posso dire il minimo 30 che sono d'azione, fatti bene, innovativi e tutto quello che vuoi. Poi fanno uscire la Switch e, beh, uno dice sarà sull'onda della Wii U. Invece no, non... Ah, Valentino, tali come lo hai scritto, sai, io ho leído. Io di Family participo nel World Championship Splatoon 2. Non ho... Non ho entenduto che era una pregunta e tampoco che parlabas in passato. Asi che no, non abbiamo partecipato noi, perché non siamo un clan competitivo di Splatoon. Ratti, la Wii U ho avuto la fortuna di comprarla al day one, anzi, la Wii U l'ho avuta una settimana, dieci giorni prima che uscisse. Perciò me la sono giocata fino a che non ho comprato la Switch nove mesi fa. Fai il calcolo tu. E ho sempre giocato a tutti i giochi. Ti ripeto, davanti a me ho una pila di minimo saranno 30 giochi. Ho 30 giochi qui in Spagna e ne avrò ancora 10, 20 in Italia. Più tutte le copie digitali. Poi essendo stato ambasciatore Nintendo ci regalavano giochi, però adesso non è più la stessa. ... Vai ragazzi, se volete fare un po' di spam siete liberi di farlo, eh ragazzi? ... 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 Password? Hai messo una contrassegna? SDF L'hai scritto? Si It's written in the chat, guys Open your eyes, guys Open your eyes Open your mind Open your like Open your like Exactly Ma perché non potete partire? Che strano, non posso scegliere io, no? Non si, auto... Ehm... Is there anymore? Ne manca uno Like in Max? Blue shape c'è? Blue shape, are you there still? Si, si, si Oh, yeah Oh, mio Dio, ma cosa... Adesso Mi ricordo che ho giocato una volta con uno che mi ha... Questa era no, Vivian è un'altra ragazza che aveva provato... Questa? No Oh, mio Dio Oh, mio Dio Oh, mio Dio Non so manco che arma ha Sì, ragazzi Questo gioco ha un voto di impostazioni Che si può impostare tutto Tranne la lingua L'idioma E scusate ragazzi, io non mi sto fisando sinceramente su cosa prendere perché non... Non so... Sì Oggi è il primo giorno che gioco Ho giocato una volta con quello di Doc però... Ratti, non ti saprei dire perché io... Cioè prima di conoscere Doc non è che giocava molto Solo giocava quasi di cellulare, quasi così Quindi... Dovrei dire che quasi Animal Crossing Ah, grazie, sarete davvero, è vero Hai ragione, che memoria, ragazza Cosa? Quella che avevo usato io una volta era una strega E l'hanno già presa Sì, sì, sì Che aveva viola, chiaramente Per questo ho presa questa, perché ho visto viola e ho detto, ah, era questa Ah sì, c'è in spagnolo o Paladins, non sapevo Fanta, dopo ci dici come si fa Anche se ho preso l'inglese Sì, anche io Cioè perché lo... Sicuramente lo capisco meglio Finchè ti... Ti dai un calcio, Ratti, te lo giuro Io ora non l'ho perso mai Ecco... Così impariamo l'inglese Ah sì, raffrescamosi l'inglese Ah, hai messo la mappa facile Buona facile Quella che conosco un po' Che ti ho visto giocare, dai Ok... Ops! That was quick! Un po' 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 ovunque grazie dove siete tutti? allora questo che fa? no questo è invisibile ok mi piace tutto non è la sua cosa questa è l'ultima? sì mi sono avvicinata troppo sì sì è vero ricaricare no adesso mi sono almeno una corta che devo ricaricare non è un tanto mannaggia double kill whoops whoops, è che mi avvicino troppo non dovrei avvicinarmi tanto ha fatto due assis, grazie Saleta per la specificazione non aveva tempo neanche da leggere ho visto solo non so che in rosso ah che bene eh che ne so, io sono felice no io non leggo, vedo qualcosa rossa che com'è so, we won, nevdeles, grande fra asking for questions this is a salute you can also say hi fine Isinger si, ah, ok ah, ah, Slate ah, io ci sono appunto quando avevo già scritto elimina il life ad un assist grazie non lo sapevo grazie buona Pallorusi però no, sotto lo teneremo da un mese Palladin la gente si rende conto adesso che c'è Palladin dopo un mese di live l'ultima la faccio io tanto bello sto gioco adesso è che free to play tutto il mondo lo vuole chiaro un mese in faccia diceva ah non mi convince non so è come overwatch ah, questo come oggi non ho sentito nessuno dire come overwatch una persona solo ah, bellissimo ma dai siete tutti perdonati no io non perdono nessuno è la malattia di questi di questo secolo Ale ce ne devi perdonarlo sennò dobbiamo poter trasportarci a un'altra epoca mi piacerebbe tornare sai chiaro Frank fortunatamente sono gusti io preferisco Call of Duty Call of Duty a Splatoon a questo e a tutti gli altri infatti ripeto se potessi comprarmi una play o farmi un abbonamento live sicuro 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 porterei Call of Duty come si ottene Koga Koga non si ottiene se sei un fundator te lo danno sennò devi aspettare penso tra un anno ci giocherai con Koga quanto c'è Lucino? non lo so non ti do ragione per i miei gusti perché mi stai paragonando il re degli sparatutto con un con un gioco ibrido io purtroppo ragazzi sto catalogando la Nintendo come console realmente come fa l'80 o il 90% dei gamer perché ripeto non sta dando giochi da adulto e boh adesso capisco i miei amici quando dicevano eh ma giochiamo a console per bambini mi sa di sì mi sa proprio che è vero almeno la switch questo mi sta dimostrando io mi sa che già mi vado a cercare le persone che possono fare il support perché vedo che nessuno perché Saretta tu sei un po' più gamer ho quella paura che alla fine ti ho interpretato inizialmente come una giocatrice normale invece sei un po' più gamer di quello che pensavo molto più gamer non so se dire meno male purtroppo poi boh ripeto Splatoon è bello Fanta tu hai giocato anche la Wii U perché per me Splatoon è stato il miglior gioco per due anni però logicamente giocavo ho giocato a Splatoon i primi due anni e ho detto wow ho abbandonato COD per giocare a Splatoon però già il terzo anno e mezzo dico Splatoon e ci hai giocato sempre e ti piace sempre come all'inizio è buono è buono fortunato a te vedi perché il target è più giovane io penso che quello del Frank cioè lo scriverei su un foglietto per se stesso dovrebbe scrivere vediamo se in due anni penso uguale su Splatoon perché penso che veramente sia un po' di tempo che abbiamo giocato tanto tante ore tanto tanto tante tante ore in Splatoon 1 che adesso abbiamo già la stessa percezione che è una persona che ha iniziato con Splatoon nella Switch io ti dico la mia se Frank compra la Play ti dico che lascia la Switch no 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 hai c'è una pregunta io le contesto no non te saludo perché è la buona norma l'educazione dice che antes ti devi salutare lo che entra in casa e dopo sono lo che sono in casa che saluto e poi già come pregunte è una pregunte che odio perché la è una persona che non mi ha gustato la persona che ha entrato dicendo mi saluto quindi un po' io non sono un gamer doc sono più una persona a cui piace giocare i videogiochi si chiama uno gamer dopo la che ci penso io solo sapendosi la PS3 quale gioco sparatutto bello che mi consigli da comprare per la PS3 ti posso dire un gioco per la tele 2006 quello ti ho detto sarebbe ripeto sarà la tua la tua necessità di un deadmatch già ti fa capire che non minchia pensavo fosse dalla parte opposta questa è una cazzata di paladin in questo caso è fatto malissimo perché i proiettili sembra che vanno da un lato invece stanno andando dall'altro la necessità di cercare un deadmatch all'interno di un gioco dove non esiste il deadmatch perché ripeto Splatoon non penso che l'abbiamo fatto per un target adulto di gamer capito perché se no si presentavano anche solo per farti capire al torneo mondiale si sarebbero presentati adulti non ragazzi con l'età compresa dai 14 o 13 fino a 18 la tua necessità è stata saziata da paladin e già c'è l'evoluzione del giocatore capito dal momento in cui tu giochi a un gioco come paladin o anche solo come fortnite è solo che fortnite è un casual game quindi non sei un casual gamer tu io da gamer mi posso adattare a un casual gamer capito ma tu devi ancora scoprirti come gamer e ti stai scoprendo come gamer perciò un casual gamer non serve a te è strano come concetto se vuoi poi ne parliamo però non è è a gradini la cosa già che adesso giocando a un palladin ti rendi conto che in splatoon ti manca qualcosa o cose varie ti fa capire che tu stai facendo un'evoluzione ragazzi l'ultima partita questa che facciamo perché intanto la pasta sta finendo l'acqua sta finendo di bollire ragione per cui devo finire di cucinare ciao Marco sì non è facile spiegare ma chi no ma chi no l'ho visto prima nella live di Ratti e l'ultima la facciamo serpent beach beach password si per te forse non per noi sì 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 blu ship sorry non per tradurare è anche la nostra ultima round ultima per noi sì No Ratti, tu non sei un casual gamer, non sei neanche un giocatore, purtroppo sapendo che hai abbandonato Splatoon sei più un gamer che un giocatore, ho visto come giochi a Call of Duty, perciò penso che sei già il passo dopo. Cosa vuol dire casual gamer? Casual gamer è brutto a dirsi senza offesa ma sono le persone che giocano a Fortnite dicendo sono forte o persone che giocano sempre lo solito gioco o persone che si sentono gamer avendo comprato solamente gratuitamente giochi al cellulare o il casual game invece, l'esempio proprio più formale del casual game è Fortnite perché non hai una costanza nel gioco, non scegli un'arma, Splatoon non è un casual game ma può provocare e generare casual gamer, capito? Sì, da domani tutti giocheremo insieme a Palladins. sai cosa ti dico? Mi tengo il mio si verrà, si verrà tranquillo Sarchino e contesta le mail di Black Riddle come è buono Cocco adesso ti piace quello? Prova a dargli un pezzetto di vanillo di nuovo per favore devo tagliare? si piccola piccola guarda meno anche i miei 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 è buono il arrucco tanto che l'hai lancato sì sì non l'hai dato da mangiare ancora oggi saletta ciao Paolo X ciao Paolo guarda Paladin si gioca con voglio farlo simpatico con un controller una Nintendo Switch è un gioco uno sparatutto prima terza persona gradevole come gioco per carità niente ci sono diverse modalità fra cui il deadmatch o cattura cattura no zona si gioca in squadre se vuoi giocare con noi la live è finita perché abbiamo fatto già quasi tre ore di live perciò la live di oggi finisce qui però domani senza grossi problemi giocheremo di nuovo alternando questo questo gioco Splatoon e anche fortnite perciò attualmente stiamo alternando questi tre giochi ciao ciao Legends oh Legends ti sei già scaricato Paladin attualmente è gratis Pao come gioco vabbè l'hai scaricato lo vedi però ci sono due versioni c'era il pack fondatore dove già il mese passato si poteva giocare e avevi tutte le tutti i personaggi già inclusi oddio oppure se ci giochi in free to play puoi scegliere vagamente non ho capito come si fa perché non essendo un free to play io non saprei dirti sai direi cazzate comunque benvenuto nella community se non l'hai fatto e ti piace la trasmissione mi raccomando metti il like così almeno sarai avvisato nel prossimo diretto ah tu giochi su PS4 chi? Paolo per adesso non penso che ci saranno no non c'è il cross play ancora e poi quelli con la PS4 non hanno la nomina di essere compatibili con le altre console a quanto pare la Sony è molto c'è un meme fantastico dove vedi il giocatore dei PS4 che gioca con gli alberi mentre gli altri giocano tutti insieme non c'è wow ma solo solo lei nessun'altra 10 giorni spiegarebbe quella è stata vai a cercare quello lì mi saluta se c'è ancora bannalo come si chiamava? aspetta gioca gioca mi ha salutato bye bye andavata si grazie 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 grande ragazzi grande grande è buono? come quando ti schianti contro il muro il cavallo sparisce? no quando ti sparano il cavallo sparisce le pennette? eh ma mi sa che non basta no? se vuoi portarvi anche domani quanto fa? 680 e c'è da mettere su l'aglio l'olio bella partita raga l'olio è un po' l'olio è un po' la pasta? si si no nessuno mi sa che allora è quello lì ok ragazzi la live stream finisce qui ve lo dico così senza problemi per tutti i nuovi ragazzi ricordatevi di iscrivervi perché si vedono per la fine le persone che si sono iscritte non si vedono spero che vi siate divertiti con noi speriamo domani sia migliore di oggi e niente un saluto a tutti oggi non sono praticamente dell'umore di fare il giro della ronda dei saluti perciò tutti salutati stay positive ragazzi devo mangiare la troppa fame inizia a essere troppo troppo persistente sta battendo lo stomaco ragion per cui quando il doc non mangia non è di buonumore quando non è buonumore non saluta faccio come quello di salutami poi entro metto mi dislike e se ne va quindi ragazzi mi saluto Ivano per Blue Ship per Calamaco per Fanta per Francesco per Dicaduca Saretta Gary Legend Persona Bella Ratti Frank Jess Cocchino saluta dai saluta Cocchino saluta a Frank eh bravo e a Sara Sara la porta dov'è guarda la porta dov'è Sara no si sta bulendo dai ragazzi miei cari cari a ti tambien non so se ti ha salutato ti hai visto ora entonces chicos a stamagnana vamos hablando un poquito en discord si 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 è retta alla porta saluta Sara dai Cocchino saluta ciao 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 Cocco ragazzi come sempre un R a tutti un cucchino salutato ancora un po' di ritrasso un po' di lag ragazzi vale chicos muchas gracias R a tutti e ricordatevi che il bye bye sia con voi